Il sangue è la vita e sarà mio. Così, nell'iconica scena iniziale del film Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Dracula rinuncia alla chiesa addio dopo il suicidio della sua amata moglie. Il sangue inizia a scorrere. Dracula ora è condannato a cibarsi di sangue umano, ma a dirci che il sangue vita, letteralmente, è anche la Bibbia stessa. Sono Alessandra del canale Polvere di Teschio e state ascoltando Del corpo umano non si butta via niente, un podcast dedicato alla storia della medicina cadaverica in Europa. Di tutti gli ingredienti della medicina cadaverica, il sangue umano rimane ciò che ci affascina di più. Nella nostra cultura popolare e quotidiana, i mostri non mangiano ossa o grasso umano, ma bevono sangue. Possiamo reinventare i vampiri in mille modi, ma l'associazione con l'abitudine a bere sangue è rimasta indelebile nella nostra cultura. Ne comprendiamo il fascino, sia da un punto di vista erotico, sia da un punto di vista concettuale. È un modo elegante per appropriarsi delle forze vitale di qualcuno. Non facciamo nessuno sforzo a immaginare che queste forze siano proprio nel sangue. Triturare le ossa di una persona in un pestello o ricavarci un olio oggi ci sembra un comportamento per lo più da orco delle fiabe. Non servono grandi competenze anatomiche per rendersi conto dell'importanza del sangue. Bastava rendersi conto di come la perdita di sangue poteva mettere a serio rischio la vita delle persone, ed ecco che gli si assegnava subito un valore simbolico. I nostri antenati non avevano bisogno di azzannare giovani fanciulle sangue. Poteva essere sufficiente recarsi da un barbiere. I barbieri svolgevano anche la funzione di chirurgo e soprattutto si occupavano di operazioni minori come i salassi. Siamo in una società dove per oltre mille anni la teoria degli umori è stata la base della pratica medica, e tale teoria prevede che per guarire dalle malattie sia necessario riequilibrare i quattro umori presenti naturalmente nel corpo. Si possono riequilibrare con il cibo e con le bevande, ma nel caso di umori in eccesso si ricorre a purghe e salassi, ossia con la vera e propria estrazione di sangue dal corpo. Tale sangue non andava poi buttato via, ma appunto venduto per essere trasformato in cure mediche. Essiccato, polverizzato o ridotto a una sorta di marmellata di sangue, poteva essere comprato in farmacia. Ma per certe condizioni il sangue serviva fresco. La fonte per eccellenza era dunque il patibolo. Là dove calava la spada del boia, ecco che si assepavano frotte di persone non solo per ammirare la giustizia che faceva il suo corso, ma per tentare disperatamente di bagnare il proprio fazzoletto nel sangue che sgorgava dal collo del condannato, o per afferrarne la testa e bere direttamente da ciò che resta del collo. Come accennavo nel primo episodio, persino Plinio il Vecchio ci riferisce di episodi simili, anche se legati ai gladiatori morti nell'arena. Il bisogno del sangue come medicina spingeva persone di tutti i cedi sociali a cercare disperatamente di ottenerlo, al punto da viaggiare lontano dal proprio villaggio per assistere a un'esecuzione. Ciò avveniva di frequente in Svezia nell'Ottocento, dove la rarità delle decapitazioni spingeva le persone a spostarsi in massa nella località dove era prevista e arrivare a rubarne persino la terra vicino al patibolo. Si arrivava al punto di pagare il condannato stesso, quando era ancora in vita, per garantirsi l'accesso al sangue. Possiamo immaginare che, prossimo alla morte ma con una famiglia a carico, qualche condannato abbia accettato tali pagamenti. In alcuni casi era invece il boia stesso a vendere strisce di tessuto imbevuto di sangue o a richiedere un pagamento per il sangue stesso del condannato. In altri casi era possibile ricevere l'aiuto di qualche confraternità religiosa locale, dedita ad aiutare i più bisognosi, i cui membri distribuivano ciottole di sangue appena fuoriuscito dal corpo del condannato. È il caso di quanto avveniva a Firenze, dove la Compagnia della Pietà forniva ai cittadini bisognosi il sangue del condannato, anche se questo era stato impiccato, non decapitato, forse per far fronte alla rarità delle decapitazioni. Sia come sia, per evitare gli eccessi di questa forza vitale, si consigliava di correre immediatamente dopo averlo bevuto, correre parecchio fino a sudare e sfinirsi, così da mettere in circolo il sangue bevuto ed evitare che questo eccesso causi ulteriori problemi di salute. La ragione principale per cui si affollavano i patiboli e per cui il sangue era così ricercato era l'epilessia. In passato alcuni credevano che fosse dovuto a un problema dell'anima, che lasciava il corpo temporaneamente. Sostenevano che il sangue fosse la sede di una sostanza impalpabile che legava l'anima al corpo, ed era quindi questa sostanza che veniva ingerita per contrastare l'epilessia secondo le persone dell'epoca. Sono molte le storie che attraversano l'Europa e che raccontano di malati curati dall'epilessia proprio grazie al sangue nel corso dei secoli, al punto da sospettare che si siano verificati casi di effetto placebo o suggestione. Questa credenza è andata avanti molto, fino all'Ottocento si potevano trovare gli assistenti dei boia che raccoglievano il sangue dei condannato per venderlo. I malati di epilessia erano così disperati che per loro il sangue era l'unica possibilità. In Germania a sei epilettici era stato vietato di bere il sangue da un medico che era contrario, ma un tribunale invece ebbe pietà dei malati, ottenendo per loro un certificato da parte di due professori dell'Università di Göttingen, che assicurava quindi l'efficacia del rimedio. Sappiamo anche di un caso in cui un omicidio è stato commesso per procurarsi il sangue a scopo terapeutico. Nel 1824, in Germania, un contadino con problemi mentali uccide un anziano per berne il sangue, raccontando di sentire delle voci e volendo quindi disperatamente una cura per la sua situazione. Il sangue essiccato e polverizzato poteva essere utile per impedire la fuoriuscita del sangue dalle ferite, poteva venire spolverato direttamente nelle ferite aperte o infilato su per le narici in caso di sangue al naso. Era utile anche come antidoto contro i veleni, l'emicrania e persino per far crescere i capelli. In una lettera attribuita a Arnoldo di Villanova, medico spagnolo e diretta a Jacobus di Toledo, il medico gli svela i segreti della medicina del sangue. Lo istruisce a prelevare il sangue di uomini sani e forti sui 30 anni, seguendo le regole dell'alchimia e dei quattro elementi. Avrebbe quindi dovuto preparare un'acqua di sangue, perfetta per i problemi a fegato, cuore cervello. L'aria di sangue invece era indicato per curare i giovani, in particolare coloro che erano afflitti da epilessia, problemi agli occhi o emicranie. Il fuoco di sangue però rimaneva il più notevole. Mescolato al grano e al vino, poteva essere dato da bere a una persona in punto di morte, per consentirgli di espellere gli umori superflui e in generale rimettere in moto tutte le parti del corpo. Questo gli avrebbe garantito più tempo, quindi avrebbe avuto la possibilità di dare le ultime disposizioni e preparare testamento. Persino Michele Savonarola, nonno del più famoso Girolamo e medico all'Università di Padova, sosteneva che la quintessenza di sangue servisse proprio a curare malattie difficili che sembravano non avere altro rimedio. Il sangue è infatti particolarmente indicato per gli anziani. Somministrato a uomini deboli, avanti con l'età e privi di forze, può garantire salute e lunga vita. Secondo il grande intellettuale del Rinascimento, Marsilio Ficino, era consigliabile per un anziano ringiovanirsi bevendo direttamente dal polso di una persona adolescente, purché il suo sangue fosse eccellente, ma in eccesso. Nella teoria degli umori, il sangue è associato alla primavera e alla gioventù, quindi non era sorprendente che si attribuisse il possesso del sangue in eccesso proprio ai giovani. I giovani poi hanno qualcosa in comune con i condannati a morte o i gladiatori dell'epoca romana. Sono ancora ricchi di energia vitale, essendo ben lontani dall'anzianità. Come per molti altri ingredienti della medicina cadaverica, anche il sangue è meglio che sia estratto da qualcuno di giovane vigoroso, anche se a differenza di teschi e ossa, il sangue non richiede esplicitamente la morte della persona da cui viene ricavato. Pensando a questi dettagli, viene in mente la famosa contessa ongrese Erzebeth Bathory, accusata di aver ucciso decine se non centinaia delle sue serve per bagnarsi del loro sangue e restare quindi giovane in eterno. C'è dibattito sul fatto che queste accuse possano essere state inventate o perlomeno ingigandite per scopo politico, ma esattamente come per il caso di cui vi racconterò tra poco, anche un'accusa, per quanto folle, deve avere delle gambe su cui poggiare. Pochi anni dopo la sua morte, nella placida Inghilterra, dopo l'occesione di un cerbiatto in un parco, tutte le donne si lavarono le mani nel sangue caldo per mantenere una pelle più bella. L'altra leggenda particolare di cui vi accennavo parla anche questa di sangue e persone influenti. Secondo questa storia, Papa Innocenzo VIII, in punto di morte, è stato curato proprio dal proprio medico ebreo con il sangue di tre fanciulli, dissanguati per l'occasione. Molto probabilmente questo episodio raccontato da Stefano in fessura non è mai avvenuto ed è da considerarsi un'accusa politica, con all'interno anche un elemento antisemitico, che ignora tra l'altro la proibizione biblica per gli ebrei di consumare il sangue. In abito cristiano, bere sangue a scopo medico era una tradizione che non conosceva confini dottrinali, in uso presso i cattolici quanto presso i protestanti. Il potere del sangue è così forte che la sua presenza rende possibile le cure a distanza mediante la medicina simpatica, come vi accennavo negli episodi precedenti. Per curare qualcuno in questo modo è necessario sottoporre a un trattamento particolare l'arma che ha causato il danno, ma qualora non sia reperibile è possibile bagnare un bastone del sangue del ferito e utilizzare quello per la procedura. Tra gli ingredienti necessari per questo unguento da applicare sull'arma o nel liquido in cui immergerla, non ci si apprende di vedere che assieme a mummia, grasso e teschio umano figuri proprio il sangue. Sempre a proposito di armi insanguinate, ricordiamo la pratica suggerita dall'alchimista Grippa, che prevede di immergere una spada usata per decapitare qualcuno nel vino per guarire dalla febbre. Seguendo un simile principio abbiamo Irvine, che consiglia di curare le persone affette da rabbia o lebra, estraendo il loro sangue e dandolo da mangiare agli animali, trasferendo così la malattia a loro. Di tutti gli ingredienti della medicina cadaverica, il sangue è uno dei pochissimi che ancora oggi viene utilizzato, anche se in un modo totalmente diverso. Le trasfusioni di sangue sono una procedura quotidiana in ambito medico e possono fare la differenza tra la vita e la morte, anche se ovviamente la funzione è cambiata e non siamo nell'immaginario di Marsilio Ficino. Forse però Ficino avrebbe potuto comprendere il milionario Brian Johnson che aveva fatto scalpore mesi fa per la sua abitudine di farsi fare trasfusioni del plasma dal figlio di Ciasettenne per restare giovane in forze per lungo. Possiamo cambiare i metodi e le idee, ma non sfuggeremo mai al fascino del sangue. Avete ascoltato Del corpo umano non si butta via niente del canale Polvere di Teschio, a cura di Alessandra. Vi ricordo che ciò che riporto qui è solo per interesse storico. Non fatelo a casa!